Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi vi farò vedere come fare la sfida dell'astronave di Siona Ehm, presente? La Siona, la skin Siona del pass battaglia? Ecco, qua c'è la sua astronave E bisogna fare una sfida Praticamente se venite in questo punto qua della mappa Che adesso vi faccio vedere E andate, se vi avvicinate qua Alla All'astronave di Siona Praticamente vi dà la sfida Che Siete stati in questo punto E vi darà 14.000 XP Adesso vi faccio vedere dove si trova Nella mappa Qua in questo punto qua della mappa Questo punto qua Così Ecco, vicino a Brughi Vicino a Brughiere Bromose Ehm Vabbè, è troppo bella sta roba Che proprio si vede nei dettagli Ehm Bellissimo Ehm Niente Fate questa sfida Vi darà il regalo 14.000 XP E niente Spero che questo video Sia stato d'aiuto Così potete fare Questa sfida E niente Ci vediamo in un prossimo video In una prossima live E ciao Grazie a tutti